Nel 2003 segue un corso di sceneggiatura e recitazione con Guillermo Glanc, per poi riuscire ad entrare nel 2006 nell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, dove consegue il diploma accademico nel 2009. Raggiunge la notorietà quando viene chiamato nel 2010 ad interpretare la parte di Mattia, protagonista della solitudine dei numeri primi. Al fianco di Alba Rorwacher, nel 2013 è candidato al David Di Donatello, al Nastro d'Argento e al Globo d'Oro come miglior attore protagonista per il film Tutti i Santi Giorni. Sempre nel 2013 viene scelto per rappresentare l'Italia nella sezione Shooting Stars del Festival di Berlino. Nel 2015 è protagonista dell'ultimo lungometraggio di Claudio Caligari, Non essere cattivo, dove interpreta il protagonista Cesare. Per la sua interpretazione vince il premio Pasinetti al miglior attore alla 72esima mostra del cinema. Di Venezia e ottiene una seconda nomination ai David Di Donatello 2016. Nel 2016 recita e lo chiamavano Gig Robot. Diretto da Gabriele Mainetti, dove interpreta Lo Zingaro. Grazie alla sua interpretazione, Marinelli vince il suo primo David Di Donatello come miglior attore non protagonista. Nonché è un Nastro d'Argento e un Chuck d'Oro nella medesima categoria.